Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo in questa puntata che sarà una puntata divisa in tre parti più che altro perché ci saranno tre partite di Slenderman fatte da ciascuno, partirò per primo io poi ci sarà il Deadly che è praticamente del canale Raffaele del Comune Massimo non ho trovato un soprannome e quindi ci sarà Massimo sempre del Raffaele del Comune perché sono anche raffreddati vabbè comunque partire allora per primo io con Slenderman, Age, Page e in più lo devo pure leggere perché non mi ricordo e la seconda puntata ci sarà Deadly e la terza Massimo bene a questo punto iniziamo Viegola Viegola questo mosso fa un po' caccao eh lo sono fatto esplodere pronti? eh leggere vado a caccao ahahah ma che sta piacendo? ma che sta piacendo? ma che sta piacendo? ma che c'è ragione si può correre? e io non ho trovato e io non ho trovato e tu mi ho detto stai scappando da uno non ho anche più camminato caccao ma che sta piacendo? ma perché non so la piacendo? spieghiamo un po' la storia di Slenderman cioè è stomafioso che vuole stuprare i bambini poveri perché c'è l'ho? ah che barbonico le legge di pidocchi? ahahah e va nei boschi e si porta i bambini dicendo che hai biscotti ha circolato la marmellata di piedi? avevi visto una pagina raga che culo dopo la prima pagina lo trovi eh vado a mia culo non la prendi già infatti bella senti don't look non guardarlo lo ti prenderà non guardarlo lo ti prenderà e non ti guardarlo lo ti prenderà i takes non è giusto sto cazzo è bravo quello che sono perchè? rilasciala buttala buttala scrivi sorry e lo rimetti apposto assorna ti scrivo calmats la mamma se mi inseguiti violento io ti mando la mia legge di pidocchi non guardarti mai dietro eh ovvio che non guardo dietro perché nell'altro video ti guardavi sempre dietro quale è che passa di me specifichiamo che stiamo giocando su scusatemi porca punta guarda qua mai andare a giocare il bai io non ho giocare il bai io non ho giocare il bai ma si vuoi morto cazzo sto girando se ci fosse una mappa non voglio guardare sei vicino sei vicino sei vicino mi sa che era uscito il polpo eh grazie ti guido io scherzavo come succede scherzavo ma perchè fa sto rumore il tamburello eh perchè ragazzi io non ho ancora creato dopo la prima pagina ti inizio a inseguire mi starei rimando un occhio ma perchè c'è sonno vabbè mi sono svegliato alle auto invece che alle 9 perchè stai ahahah che cazzo di ormattirà tu cosa stai a vedere dai quando lo vedi tu sai anche che cazzo hai a zigridarti tutto a zigridarti per me mi sta già seguendo eh grazie al caccia l'hai dietro e si gira non c'è ma io potrò togli davanti si lascia ora che qua ci sono delle pagine tra questi bidoni e posso andare a cagare le pagine trovatele qua in mezzo da me eh lo so ma io non c'ho si non ci ho mai giocato a slenderman quindi per me su quella io me lo so scaricato ma avevo paura non c'è più cazzo per me su quella scuola eccola no non è ah si cosa hai scritto la fa culo ecco wasn't to watch it eh c'è il wasn't to watch it voce eh 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 seppure e eh assurdo e eh è 물 non ferma ma il massimo di pagina massimo di pagine qua dentro ci deve essere una pagina io non ci vado non cazzo c'è la punti pia mati del culo ci sono tanti di quegli angoli la sono girati ti cagando sono fatti sono fatti e la carana non faresti scherzi non faresti scherzi mi viene un cuore qualcuno io guardare tanto non me lo sento veni dietro ecco appunto io guardare giocatore è dentro al recelto guarda adesso mi sposti un metro e è più avanti non c'è l'attaccato al culo c'è davanti non girare gli angoli però qua pensi mi giuro tra quattro volte scuota io mi faccio prendere ma tu c'è scarica eh oh non si è non fa no si è vero allora lei sta scaricando no si tu che mi rimane no no si sta scaricando no si scarica si scarica si scarica e le file dove hai tru buco da il culo allora che si gira violentemente entrati Fabio entrati Fabio entrati la bella casetta ci sono dei due o sette minuti questa è una cosa brutta davvero ci sono no perché mi hanno fatto un minuto a questo va bene ci sono le vecchiette che ti fanno da bere e da mangiare e poi ti sto franzo ho fatto che poi ti sembra visto il tronco sembrava Slenderman quale dei trenta tronco? eeeh c'hanno dei strani sinistri su questi tronco non sono tronco si sentiva solo se faccio l'altro tanto me lo sento che hai dietro di nuovo è perché non ti girai io mi giro mi piace girarmi mi sa che ho sbagliato il giro guarda qui questi cazzi di rumori tratti tratti e sono i passi sembra che stai passando patatine aprite la patatine patatine romanti sto cadendo sotto c'è voglio ok ragazzi io che ci sto giocando ancora il giro perchè esce fuori strane in via di merda sei in un posto di sera e poi sei sicuro dobbia ritornare qualcosa cosa è successo? no se dovresti se prendi tutte le otto pagine dovrebbe diventare giù in pratica ti uccide vabbè in una in un video visto che uno prende tutte le otto pagine e diventa giù questi girassi sono trenta Slenderman se ne trovo uno prenderlo già il misto facciamo il tempo in via di unis no questo si gioca il punto il vento e ciò a passare la luce ok ok ecco la pagina perchè anche se adesso gli succedono in troppo c'è la sera il saluto la gente il francese arrazo mi ha trovato armi è un calcio d'aiuto se si è rossetti e canzone passaggio oggi ho i gas che corrono a casa sono una esploratrice hai visto le pagine mi si può rubare il camion mi inchiare desostanziale dove? 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 me lo vedo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah oddio 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 me lo sapevo non mi sono neanche spaventato dai il gioco io guarda aspetta spesi qui devo bloccare vabbè raga adesso ho finito io stavo morendo e ti chiamo ti chiamo